Buongiorno, sono Di Paolo Immacolata e ho un'azienda familiare artigianale che produce pasta fresca da oltre 30 anni, situato qua a Bioni, provincia di Avellino, nel cuore di Berbiglia. Nel corso del tempo la mia azienda Le Vecche Tradizioni si è evoluta proponendo una vasta gamma di pasta e ravioli tagliati a mano, pur restando sempre scrupolosamente attenta al rispetto delle tradizioni. Il mio impegno è preservare i sapori originali e salvaguardia dell'integrità del nostro territorio, operando secondo modelli di sostenibilità e di innovazione. Ecco perché è stato necessario far nascere un macchio, la pasta di Immacolata, proponendo esclusivamente un prodotto irpino. L'opportunità che mi si è data partecipando al progetto Graditi risulta in linea con i miei obiettivi. La pasta ricavata dall'animo nobile del grano antico risulta quella più pregiata e la collaborazione con il Centro Nazionale della Ricerca nell'Alimentazione è finalizzata l'introduzione di innovazione in termini di prodotto e processo, per una conquista di nuovi mercati nell'ottica di migliorare la produzione abbinata al beneficio salutistici. Il mio obiettivo è valorizzare i prodotti locali con una produzione tipica e tradizionale irpine. Noto che negli ultimi anni il mio consumatore ha sviluppato particolare attenzione al prodotto che acquista, domandandosi la provenienza delle materie prime e accertarsi che siano genuini e di qualità per una garanzia di salvaguardia della propria salute. In conclusione ribadisco il mio entusiasmo a partecipare nel progetto Graditi che sarà l'opportunità di risaltare i sapori dei grani antichi locali dell'Irvinia. Grazie anche al supporto del CNR. Grazie mille!